Sì, sono Chiara Prandi, capitano della squadra NGS Porto, niente che dire, contentissima della vittoria di questa sera, anche perché ci voleva una ventata d'aria fresca dopo una lunga serie di sconfitte, con la speranza che questo sia l'inizio di un buon proseguimento, anche perché questa dovrebbe essere stata l'ultima di andata e quindi con la speranza di fare un buon girone di ritorno e adesso abbiamo cinque partite importanti, delle quali ce la giochiamo tutte dalla medio-bassa classifica e quindi cercheremo di fare più punti possibili d'ora in avanti e niente, contentissima, il gruppo c'è, è quello l'importante, più che tecnicamente, più che fare sì e vero mille allenamenti e tutto, se c'è il gruppo è già buona parte per fare ottimi risultati. Che dire, niente, saluto tutti, un ringraziamento particolare ad Agron Conzeli che ci sostiene sempre con i suoi video e le sue fotografie. Grazie Agron, ciao a tutti, buonasera.